Siamo qui con Tiziana Dicembre di Tinerari d'Abruzzo che ci descriverà la visita guidata al biotopo costiero di San Salvo Marina. La visita guidata che è partita adesso si sviluppa attraverso il biotopo costiero di San Salvo Marina. Parte da qui, dalle strutture dell'osservatorio del mare, passa attraverso le dune, la parte dunale del biotopo, illustrando ovviamente quelle che sono le piante più importanti della zona dunale e la funzione importante che le dune hanno per la costa sabbiosa. Dopodiché prosegue la visita guidata verso la parte verde, quindi quella del giardino botanico. Dalle dune mobili si passa alle dune fisse e dalle dune fisse poi si continua ad entrare verso l'interno seguendo quella che è la struttura del giardino botanico che è stato ricostruito appositamente per mostrare qual è la successione vegetazionale che procede dalla spiaggia fino verso quelle che sono le colline dell'entroterra. Quando e come è possibile fruire di queste visite guidate? Queste visite guidate si svolgono a parte in questi eventi particolari in cui sono ovviamente gratuite e pubblicizzate e per il resto si possono svolgere in qualsiasi momento purché siano su prenotazione. Quindi è necessario prenotare e preferibile nelle giornate più calde svolgere queste visite guidate nelle ore serali. Ovviamente è più fresco. Quindi diciamo dalle 18 in poi è l'orario più indicato per svolgere le visite guidate. Quindi anche per i bambini è possibile venire, fare delle visite anche dei giochi all'interno delle strutture? Sì, ovviamente l'educazione ambientale consiste principalmente in giochi perché i bambini devono imparare a rispettare l'ambiente attraverso il gioco.